Il campionato di calcio di Serie D 2024-2025 ha finalmente una forma precisa e ben definita. Sui canali social della Lega Nazionale Direttanti, infatti, quest'oggi alle 14 si sono tenuti i sorteggi dei calendari dei nove gironi che lo comporranno per definire le partite di ciascuno di essi. In Valdarno, occhi puntati sul raggruppamento E, quello che comprenderà cioè le quattro squadre del territorio, Figline, San Giovannese, Montevarchi e Ternova Traiana. Tutti ai nastri di partenza all'8 settembre e poi giù a testa bassa fino al 4 maggio 2025 con la sosta natalizia dopo l'ultima giornata del girone d'andata prevista per il 22 dicembre e dunque il giro di Boa al 5 gennaio con il primo turno di ritorno. Il campionato si fermerà poi nuovamente alle porte della primavera subito dopo il turno del 9 marzo per dare spazio agli impegni della rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Due turni infrasettimanali previsti quest'anno, il 23 ottobre all'ottava giornata e l'anticipo pasquale del 17 aprile alla 32esima. Per quanto concerne l'orario di svolgimento infine, le gare inizieranno alle ore 15 fino al 27 ottobre da quando poi si passerà alle ore 14.30 come di consueto, congiuntamente al ripristino dell'ora solare. L'orario tornerà poi per il medesimo motivo alle ore 15 a partire dal 30 a marzo per l'inizio delle partite col ritorno all'ora legale. Dicevamo con un occhio alle squadre valdarnesi che il campionato si aprirà proprio con un derby, quello allo stadio del Buffa tra i padroni di casa del Figlini e la San Giovannese, mentre invece l'Aquila Montevarchi esordirà con una delle due trasferte stagionali nel Lazio, ospite del Flaminia Civita Castellana, ed il Terranuova Traiana invece esordirà in Umbria a domicilio della Fulgence Foligno. Proprio contro il Terranuova Traiana la San Giovannese chiuderà anche il proprio campionato, finendo dunque come iniziato con un derby alla 17esima il 22 dicembre a Terranuova e all'ultima al Fedini di San Giovanni. Il derby del Valdarno su tutti, cioè quello tra Montevarchi e San Giovanni, si disputerà invece alla decima giornata, il 3 di novembre, al Virgilio Fedini con ritorno al Brilli Peri, previsto per il 9 marzo 2025. Terranuova Traiana e Montevarchi si sfideranno invece tra le mura terranovesi alla settima giornata, il 20 ottobre, con ritorno a Montevarchi il 16 febbraio e alla nona, il 27 ottobre, ci sarà infine la sfida tra il Rosso-Blu ed il Figline che li ospiterà a sua volta al Del Buffa il 2 di marzo. Una buona diluizione nella stagione dei vari incroci tra valdarnesi insomma che animeranno un girone e già di per sé interessantissimo grazie alla presenza di nobili decadute quali Siena, Livorno e anche Grosseto che alzeranno l'appeal del campionato oltre che le varie sfide per i rispettivi obiettivi di tutte le compagini in gioco. Meno di un mese all'inizio delle ostilità, sportivamente parlando dunque, che vinca il migliore!